Questo è il filo, l'abbiamo cercato qualche parte di un raietto, ci devi scappare a noi, non c'è il filo. È in salato la prima ancora. Ma si vede da qua la stessa? Si vede che voglio essere in salato. Dov'è? Non c'è il filo, non c'è il filo, non c'è il filo, non c'è il filo. Non c'è il filo. Magari bastava anche un gioppino di salato a taso, se lo fumava un gioppino di salato a taso, se lo indossa, galleggia fino a là, vedo. Io mezzo alla mia operazione, se sono allenati il filo, la prima cosa che non è di costa, non si è l'obbiccio, no? No, non è in cazzo. Perché là è il punto più forte. Qua non è che sta nella porta. Cioè, che stanno da bene collegati. Eh sì, perché là c'è proprio il torrente. ... ...